buongiorno amici comincia oggi una nuova settimana di borsa come al solito vediamo insieme quelle che sono le notizie più importanti dal punto di vista finanziario che possono impattare sul mercato lunedì 30 luglio abbiamo alle ore 16 dagli stati uniti d'america i contratti pendenti di vendita di abitazioni è un indice che misura le variazioni nelle attività di stipula di contratti immobiliari di conseguenza se avremo un dato positivo questo sarà favorevole al dollaro martedì 31 alle 9 55 dalla germania il dato sulla variazione della disoccupazione alle ore 11 dato europeo l'indice dei prezzi al consumo che misura quindi i cambiamenti nei prezzi di beni e di servizi e alle ore 16 dagli stati uniti il rapporto sulla fiducia dei consumatori misura il livello di fiducia da parte dei consumatori in generale nell'attività economica del paese mercoledì primo agosto festa nazionale in svizzera mercati chiusi in svizzera alle 9 55 dalla germania il dato sull'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero alle 10 e 30 dall'inghilterra stesso dato come precedente l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero alle 14 e 15 dagli stati uniti la variazione dell'occupazione del settore non agricolo alle ore 16 sempre dagli stati uniti l'indice ISM dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero alle 16 e 30 il classico dato sulle scorte di petrolio greggio mentre alle 20 sempre dagli stati uniti avremo le decisioni del FOMC sui tassi di interesse giovedì 2 agosto alle 10 e 30 il dato dall'inghilterra indice dei direttori degli acquisti del settore costruzioni anche qui un dato sull'attività del settore immobiliare alle ore 13 sempre dall'inghilterra nel rapporto della bank of england sull'inflazione assieme quindi alla decisione sul tasso di interessi e a seguire le 13 e 30 il classico discorso del governatore della bank of england carney venerdì 3 agosto ore 10 e 30 dall'inghilterra indice dei direttori degli acquisti questa volta del settore dei servizi alle 14 e 30 un dato dagli stati uniti che misura il livello di buste paga del settore non agricolo alle 14 e 30 sempre dagli stati uniti il tasso di disoccupazione mentre alle 16 il famoso indice ISM non manifatturiero però bene queste erano le notizie l'ultimo giorno di questa settimana ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con amica borsa